Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, rieccoci qui oggi con Revenues Devils, riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Allora ragazzi, piccolo recapino della situazione. Dunque, abbiamo finalmente sistemato il nostro negozio barra bottega e in effetti abbiamo aggiunto un po' di tavoli qui nel nostro pub. Abbiamo sempre qui il signor Parsifal che fa vestiti e inoltre possiamo vedere di piantare anche un po' di roba. Però, però, prima di fare questo, allora vediamo un attimino le lettere. Abbiamo la lettera numero 8. Mi scuso per non essermi fatto più sentire, la mia cara cugina è venuta a mancare, eccetera eccetera. Questa qui già l'avevamo letta nel precedente episodio. Allora, vediamo un attimino il resoconto, va bene, ordini errati, eccetera, va benissimo. Dopodiché, non vorrei ancora aprire il negozio perché noi qui abbiamo, signori, sbloccato completamente tutto e vorrei vedere un attimino anche di cambiare l'abito ai due tipi. Perché, se vi ricordate bene, noi avevamo messo l'abito da scheletro al tipo, mentre alla tipa gli avevamo messo un altro tipo di abito che non mi ricordo. Eccoli qua. Allora, a lui gli avevo messo... Dov'è che era? Eccolo qui. Gli avevo messo questo. Mentre a Hildred gli avevo messo la sposa... No, non era sposa cadavere, ma era... Se non vado errato, cuoca gourmet. Però io direi quasi quasi anche una bambolina. Sì, dai, una bambolina ragazzi, ci sta, dai. Su, abbiamo finito i nostri soldi, però ci sta, dai. Allora, visto che le alzatine sono quasi vuote, un po' di cadaveri ne abbiamo. Io direi di mandare un attimino il gatto in ricognizione. Guardalo lui. Guardalo qui, Parsifal, quanto è figo, quanto è carino. Allora, prendimi il vestito, lo porti qui al manichino. E dopodiché ragazzi, dopodiché, possiamo anche fare un po' di cipolle, patate, pomodori e infine anche un po' di uova. Quindi vediamo un attimino, abbiamo sette, quindi sei, cinque, quattro, tre. Diciamo che dovrebbe bastare il concime di umano qui sotto. Ok, allora, vediamo un attimino, qui la signorina Hildred sta andando alla perfezione. Vediamo un attimino, possiamo fare un po' di salsicette barra bistecchine. Tanto di carne tritata ne abbiamo. Tanto comunque sia, in questa giornata arriveranno ancora un po' di gente. E io ragazzi, credo che forse, e sottolineo forse, siamo quasi alla fine del titolo. Non lo so ragazzi, non lo so, però, però, ci stiamo lavorando anche su questo. E ok. Dopodiché, signori, qui è già tutto quanto pronto, quindi possiamo anche... Signora, mi scusi. Ah ok, perfetto, ha finito. Il gatto ha portato il suo pranzo, quindi mettiamolo sul vassoietto. Prendi qui, mettilo in forno. E... Eh sì, lo so, scusi, scusi, lo so. Io mi dimentico ogni tanto, eh, io mi dimentico. Ok, appostissimo. Prendi anche le patate. Guardalo quanto è figo, quanto è figo il signor Parsifal. Con sto abito. Manco se deve andare a una festa di... Di Halloween. O di carnevale. Vai, vai. Piglia le... Piglia i pomodori qui, su. Non mi facci traumatizzare più di quanto sono traumatizzato con sto gioco. Perché devo dire, ragazzi, molto molto carino. Molto molto carino. Eh... Diciamo che siamo già pieni di tutto. Siamo già pieni di tutto. Vai con le uova. Attenzione alle galline, eh. Eccole là. Ve l'avevo detto io. Allora, ragazzi, qui abbiamo i due soliti marpioni ancora qui attaccati. Sta testa qui non mi ricordo assolutamente di chi potrebbe essere. Perché non mi ricordo che noi avevamo tagliato la testa a qualcuno. E l'avevamo messa qui. Dopodiché, torni sotto. Un po' di cibarie ne abbiamo. Vorrei soltanto fare un po' di salsicette. E mettere il topo lì sulla nostra alzatina. Possiamo aprire il negozio. Facciamo un altro abito. Almeno così si trova qui. Sapete che cosa? Forse magari sarebbe stato che di migliorare, ad esempio, la macchina per cucire. Quindi un po' di spazio qui ne abbiamo. Magari potevano mettere un'altra qui. Almeno così. Dato sì che abbiamo ben quattro manichini. Magari anche due vestiti per ogni manichino. Però in modo molto molto più veloce. Allora, prendi qui. Porta qui. E vediamo un attimino. Prendimi subito il vestito. Perché la tipa qui se lo va ad acquistare. Ok. Benissimo, benissimo. Dai, su. Mando di nuovo il gatto in ricognizione. E dobbiamo fare un attimino anche il nuovo ordine. A posto così. Vada signore. Prenda le misure. Olè. Allora, questi qua chiedono... Bistecchina. No, scusi. Mi prende la bistecchina. Scusi. La salsicetta. E anche carne tritata. Madonna mia, stanno arrivando un po' troppo gli ordini. Allora, questo qui dovrebbe essere tavolo numero quattro. Poi abbiamo anche il tavolo numero due. Bistecchina. Scusi, mi prende la bistecchina. Il pomodoro. Eh, sì, va bene. Però, scusi, eh. Che cos'è? È la patata. E me la poggi qui. Scusi, eh. Non per qualche cosa, ma va bene così. Le alzatine. Le alzatine. Maledizione. Prendi questo. Portalo al tavolo numero quattro. Dammi una mezza ripulita subito. Prima che mi entri qualcuno. Che cos'è? Ok. Tavolo numero due per questo. Quindi uno, due. Dai, 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 dai. Su, sgobba, signora. Sgobba. E che cos'è? Tavolo numero due. E, dopodiché, soltanto una mitica salsiccetta per il nostro buon uomo. Prenda la salsiccetta qui, su. Forza. Dai, 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 dai. Su, fammi un altro abito, Parsifal. Ok. E metti qui la salsiccia e mettila al forno. Dai, su, prima che veramente qua i tipi si iniziano ad infastidire così tanto. Tanto comunque sia, credo che ci sia il ragazzo che va a riprendere di nuovo l'ordine, eccetera. Allora, prendi qui. Vediamo un attimino, ragazzi. Questo cadavere lo portiamo di sopra per fertilizzare il tutto. Allora. Prendi. Porta. Olè. A posto. Ok. De nuda. E fin qua, ragazzi, ci siamo. Cavolo, le alzatine sono vuote, le alzatine sono vuote. Madonna mia, madonna. No, vabbè, ragazzi, così è veramente tanto, tanto ingestibile. Sono onesto. Allora, portalo di sopra. Sono veramente così tanto ingestibili. Allora, ragazzi, vediamo un attimino di fare un po' di cibo per le nostre alzatine. Prendi la carne di gatto, eh, di tubo. Eh, sì, scusi, lo so, ogni tanto mi distraggo. Mettilo qui. Eh, lo so, ragazzi, un po' di... Un po' di ordini andranno persi, però, ragazzi, non ci posso fare niente. Portalo su. Dammi una mezza ripulita qua, Parsival, prima che qua. Famo i danni. Ok. È ok, a posto. Dopodiché mi prendi un'altra bistecchina. Me la lasci qui con cipolla e pomodoro. Madonna. Ragazzi, veramente sta diventando molto, molto più traumatica come cosa, però, eh. Alla fine dei conti, ragazzi, dovevamo avere qualcuno in più per fare robe. Allora, portami il vestito qui. Scusate, ragazzi, ma ogni tanto mi si blocca qui il catarro, ma non ci possiamo fare niente. E portalo qui. Vai qui, fammi qualche altro vestito. Olè. Na, a posto. Dopodiché mi prendi anche, cavolo, però, dai. Bistecchina, pomodoro e patata. Patata. Dai, è così. Dobbiamo mandare il gatto in ricognizione se vogliamo portare il cibo su alle alzatine. Però dovrebbero essere gli ultimi clienti, quindi va bene così. Dopodiché, prendi il vestito, portalo al manichino, prendi un po' di carne tritata, me la metti qui e prendi anche un po' di... No, scusi, dove cazzo mi va? Signora, e che cos'è? E dico, no? Va bene, dai, su. Aridagliela, signor, dove vai? E lascia qua. Metti qui. Prendi questo, tavolo numero tre. Portalo qui. Vai a fare un altro abito, Parsifal. Scusate, signori, lo so. E così... Mamma mia, ma che so' affamati. Si buttano proprio come se non ci fosse un domani su sti cavolo di piatti qua, eh. Prelibati, poi, madonna. Che ve lo dico a fare, signori? Che ve lo dico a fare? Ok, a posto. Meno male che ci sta il ragazzo che ogni tanto va di nuovo a... Riprendere barra... Riconsol... Insomma, consolare i nostri... Madonna mia. I nostri... Clienti, perché sennò veramente, ragazzi, così non si può andare avanti. Ok, a posto, dai, su. Ultimi clienti, ci siamo. Porta il gatto a far rifornimenti. E possiamo fare, magari, ad esempio, un po' di bistecchine e anche un po' di salsiccette, dai, su. Ne abbiamo qui di cadaveri. Possiamo fare... Ne sono rimasti due, se non vado errato. Mi sa di sì. Ok, dai, su. E dobbiamo fare anche, ragazzi, le alzatine. Perché, come detto, purtroppo molto molto difficile. Allora, Parsifal, vai qua. Fai un altro abito. Almeno così lo teniamo... No, scusi. Ok, che succede? Aridagliela. Il ragazzino. Buongiorno, Hildred. Dica. Ciao, Peter. Che cos'hai lì con te? È un vecchio libro di fiabe. Lo venderò al mercato per guadagnarci qualcosa. Tanto non so leggere. Un giovanotto come te non è in grado di leggere? Vieni qui, dammelo. Detta così suona male, ma vabbè. Ti leggerò qualcosa. Poi potrai comunque venderlo se vorrai. C'era una volta... Signor, famo una cosa in fretta, però. Due fratellini che vivevano felici con i loro genitori, ma non avevano molto denaro. Così la padre decise di abbandonare i due fratelli nella foresta. È terribile. I due fratellini erano spaventati e stavano morendo di fame. Finché ad un certo punto si imbatterono in una piccola casa in mezzo al bosco. Con il loro stupore si accorsero che l'intera casa era fatta di marzapane. Così cominciarono a mangiare voracemente la casa. Una casa di marzapane sembra deliziosa. Tutto ad un tratto una strega uscì dalla casa. Era molto arrabbiata. Ette credo se stavano a mangiare la casa. E disse, piccoli mocciosi, come osate mangiare casa mia? In un attimo catturò Ed imprigionò i due bambini. E decise che li avrebbe mangiati. Ti prego, basta, Hildred. Questa storia mi sta spaventando. Non potrei continuare a leggere in ogni caso. Sembra che un po' di acqua sia caduta sull'ultima pagina. E non riesco a distinguere le parole. Oh, che peccato. Meglio così, meglio così. Sto bambino l'hai già traumatizzato e che cacchio. Esercitati nel leggere e impara a scrivere. E sarai in grado di finire la tua storia. Anche perché secondo me se impara a leggere e scrivere potrebbe trovare un lavoro. Che ne pensi? Sì, va bene. Grazie, Hildred. Mi diverto sempre con te. Andrò comunque al mercato per vendere se riescono a farmi un buon prezzo per questo libro. Altrimenti lo terrò. Ciao ciao. Ciao tesoro. Come detto ragazzi, si stanno affiatando un attimino tutti e due. Beh, devo dire che è una cosa molto molto sincera, dai. Allora, vediamo un attimino. Migliorie. E vabbè, lettere numero 9. Cari amici, vi scrivo qualche informazione riguardo il terzo bersaglio. Questa volta è una donna, quindi vi suggerisco di essere più delicati del solito. Il suo nome è Yovonne Larocque, credo. Una signora benestante sposata con uno degli uomini più ricchi del posto. L'ho incontrata per la prima volta quando il signor Larocque, o Lore, Loreche, credo, mi ha invitato a pescare al lago. A ritorno Yovonne ci aspettava con le sue amiche sotto un enorme gazebo, adornato da bellissimi fiori. Sorseggiavano del tè. Subito sono rimasto fulminato dalla sua pelle, pallida e perfetta come la luna. Una donna così elegante ed aggraziata. Suo marito mi disse, con un certo orgoglio, che sua moglie gestiva un negozio di cosmetici, vendiva di tutto, lozioni, crime e profumi. Ciò che vi sto dando è un consiglio da amico. Non comprate mai nulla da lei per risparmiare sulla materia. Prima la signora Larocque, credo, fa uso di scarti e agenti chimici pericolosi. Il tutto però ben confezionato e venduto a caro prezzo. Non so se ammirare il suo spirito imprenditoriale, ma una cosa è certa. Mi piacerebbe assaggiarla. La voglio per il mio banchetto. Trattate la sua pelle con cura. Ricordatevi che vi osservo sempre. Cordiali saluti. Ecco, là. A posto, va bene. Allora, ragazzi, allora, vediamo un attimino di fare un po' di robe. Allora, come detto, facciamo soltanto bistecchine? Ma sì, dai. Tanto qui sopra qui sta tutto quanto a posto. Va bene, va bene. Allora, il gatto è tornato. Metti la bistecca qui. Questi qua, ragazzi, sono per le alzatine. Ok, dai. Magari, ragazzi, per le alzatine possiamo fare dei pasti un po' più semplici da preparare, perché altrimenti veramente così non ce la facciamo per niente al caso. Porta di sopra. Prendi il migio. Mettilo qui. Mettilo nel fornetto qui. E porta anche questo di sopra. Qui abbiamo fatto tutto. Apri il negozio. Ok. Allora, vediamo un attimino. Non so se saranno due, barra, tre cadaveri da poter far banchettare al tipo. Però, vediamo. Allora, prendi un po' di carne fresca. Mettila qui. Facciamoci un po' di carne tritata umana fresca. Proprio bella così di primo mattino. Ok, a posto. Dopodiché mi fai anche un po' di salsicette. Allora, qui non viene ancora nessuno. Qui stanno acquistando robe. E vediamo un attimino cosa ordinano. Quindi, tavolo numero one. Dica. Eccolo il ragazzino che arriva. Scusi, signora, mi mandi sto cavolo di gatto qui, per favore. Ah, soltanto salsiccette, dai, su. Cosa onestissima, cosa onestissima. Daie però, con sto gatto, che cavolo. Daie, signor. E che cos'è? Piglia sta salsiccia. Mettila qui. Vediamo una... Ecco, là. Salsiccia un'altra volta. Pomodoro e cipolla. Pomodoro e cipolla. Ole. A posto. Metti qui. Aridagliela. Poi mi prendi questo. Me lo metti qui. Eccala. E anche con un'altra bistecchina. Ah, scusate, signor, ma qui non viene nessuno, però... Ah, ma se n'era andata, ma a me. E quanto so stronzo. Se n'era andata la tipa, ma non me ne ero reso conto. Pensavo che... Ah, scusi, che ho messo qua dentro io? No. Vabbè, dai, su questa qua la mandiamo sopra, dai. E che due maroni. Ma che due maroni. Madonna. Allora, questo qui è il tavolo numero due. Eccolo qui. Dai, dai. Facciamo un altro po' di abiti, su. Mi sono fatto sfuggire un po' di cliente, por. Questo qua, soltanto salsiccette. Al primo tavolo. Arrivano, arrivano, tranquilli che arrivano a posto. Allora, questo qui me l'ho denudi. Cavolo, già i vestiti qua sono già finiti, porca Eva. Ecco qui. E no, scusi, la bistecchina. La bistecchina e me la devi portare qui, al tavolo numero tre. Uno, due, tre. Sì, perché ogni tanto, ragazzi, possiamo andare in confusione e sbagliare l'ordine. Fare una roba del genere, perché veramente, ragazzi, si rischia tanto. Signora, ecco la sua costoletta. Aridagliela. E signori, facciamo un po' di costolette, un po' di braciolette. Dagliela un po' di bistecchine per le nostre alzatine. Questa qui ha chiesto soltanto un po' di salsicette. A posto. Prendi qui. Prendi il gatto. Prendi la carne del gatto. Mettila qui. Mettila al forno. A posto. Dai, dai. Fammi un altro vestito, su. E, ragazzi, abbiamo finito anche i vestiti, porca Eva. Allora, prendi questa. Questa qui me la mandi su. A posto. E mi prendi una salsicetta. Mettila qui. Mettila qui. Vai, vai, piglia le misure. Scusi, signora, si leva? Questo qua, che cos'era, madonna mia? Mi so' dimenticato che cavolo era questo. Allora, carne di tubo. Mettila qui. A posto. Ah, le salsicce, sì, sono al tavolo numero quattro. Eccomi, buon uomo, arrivo, scusi, eh. Arrivo, arrivo. Madonna mia, non ce la faremo mai. Putta di sotto sto cadavere. Oddio, ragazzi, ci stanno giornate che proprio veramente, oh, ti... Ti pesano, ti iniziano proprio a pesare come se non ci fosse un domani. Metti qui. Prendi qui. Metti qui. Dai, forza, forza, forza. Dai, una mezza ripulita. E poi mi fai anche un altro abito. Prendi un altro po' di carne. Mettile qui. Queste qua, ragazzi, le portiamo alle alzatine. Figlia questo. Dai, dai. Forza, forza. E portalo al tavolo numero uno. Eh, lo so, ragazzi, purtroppo saranno inferici, però. Che possiamo fare? Non ci posso fare niente, ragazzi. Come ho detto, ci serve una mano sotto. Ci servirebbe una mano sotto. Però, come ho detto, sotto non può entrare nessuno. Ok. Allora, allora, allora. Questo qui lo mandiamo sopra. Eh, ragazzi, dobbiamo fare... Pistecchine e salsicette qui. Ok. Ole. A posto. Manda il gatto in ricognizione. Prendi l'abito. E portalo qui. Allora, 174 sterline. Bene. Ok. Eh, ragazzi, abbiamo finito anche i vestiti, eh. Quindi, fate voi. Fate voi. Prima ne eravamo così tanto pieni. Credo che dovrebbe essere questa qui la tipa? Mmm, anzi no, è ancora il ragazzino. Signora Hildred, la vita di strada è troppo difficile per me. Ma non ho soldi per mangiare. Non ce la posso fare da solo. Ho venduto tutto quello che ho. Ti prego, fammi rimanere qui con te. Prometto che farò qualsiasi cosa mi chiederai. Mio caro Peter, di cosa diavolo stai parlando? Sai benissimo che non posso sfamare anche te. Devo prendermi cura di mio marito e della nostra attività. Come ti viene in mente una cosa del genere? Per favore, ho bisogno di una madre. Ecco, già qui. Qualcuno di dolce e gentile come te. Io una madre? Peter, per favore, levati dalla testa questa idea. Questo è un mondo duro, ragazzo. Estremamente crudele. Il solo pensiero di te, tutto solo là fuori, mi spezza il cuore. Ma non posso prendermi cura di te. Era proprio come te prima. Ero proprio come te prima di incontrare Parsifal. Sono sicura che troverai la tua strada. Proprio come ci sono riuscita io. Peter, prendi questi soldi. E giurami che andrai alla stazione. E prendi il primo treno diretto lontano da questa città malvagia. Meriti una vita migliore di questa. Ma... E pigliati sti soldi e vattene. Farò quello che mi ha chiesto, Hildred. Lo prometto. Mi fido di te. Non ti dimenticherò mai. Dimenti... Dimenticami invece. Ora vai, tesoro. E prendi di cura di te. Oddio. Come hai detto, ragazzi? Ciao, ciao, Hildred. Come hai detto, ragazzi? Si sono affiatati un bel po' troppo. Io. Una madre. Beh, secondo me sì, eh. Secondo me ci poteva provare. Ci poteva anche... Ma come? Ma scusa, ma se Raina... Ma io pensavo che gli dava, che ne so, un 50 sterline. No, gli ha dato tutto quello che avevamo. Avevamo raggiunto quasi 200 sterline stas... Vabbè, dai, ragazzi. Era un ragazzo, va bene. Va bene allo stesso. Dobbiamo aspettare i prossimi guadagni. Anche se comunque sì, abbiamo sbloccato completamente tutto. Tanto i cadaveri sono gratis. Quindi non è che dobbiamo pagare i cadaveri. Anzi, ci mancherebbe altro. Allora, prendi sto vestito, Parsival. Portalo qui. Tu non sei niente di quello che ha fatto tua moglie. Quindi in cassa non c'è più niente. Buon uomo. Quindi fai un po' conto tu. Di quello che ha fatto tua moglie. Vabbè, però comunque sia dai ragazzi. Ha voluto aiutare il ragazzino. Anche se secondo me poteva prendersi cura del ragazzo. Magari anche tenendolo su nel pub. Magari anche, non lo so, farlo lavorare qui. E quindi magari saremmo arrivati più o meno ad una nuova conclusione. Non lo so, però comunque sia, va bene così. Dai su, apri il negozio. Vediamo un po' che cavolo riusciamo a fare, dai. Qui ragazzi, i vestiti sono finiti. Eeeh, dobbiamo aspettare. Eh sì, purtroppo sì. Ok, a posto. Allora, vediamo un attimo. Qui ha tutto quanto fatto. Primi clienti. Ore. Allora ragazzi, io direi di preparare un po' di carne così, eh. Giusto con carne e farina. Almeno così teniamo un po' di alzatine piene. E si ritorna indietro un'altra volta. Eeeh, sì. Sì, 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 sì. Purtroppo sì, ragazzi miei. Purtroppo sì. Si ritorna indietro un'altra volta. Che peccato, che peccato. E vabbè. Che dobbiamo fare? Dai una mezza ripulita qui. Dopodiché. Mi prendi anche questo. Me lo metti qua sul vassoio. Ma, scusa, ma sta carne è pronta o no? E dai, che cavolo. Portala su, no? Sti gran ciufoli. Che dai, che cavolo. Piglia il vestito, Parsival. Ah, piazzalo qui. E dai, eh. Lavora, sgobba. Allora, costolette. Ah, ridaglia la costa ai costolette. Volevo di bistecchina. Riprendi la bistecchina, cipolla, pomodoro. Metti una. E. Due. Ok. Dai, su. Pian pianino, pian pianino, stiamo recuperando un'altra volta. Allora, questo qui, tavolo numero due. Eccolo qui. Dai una mezza ripulita qui. Prendi questa. Dai, eh. Mettilo qui. Arrivo, signori, eh. Arrivo subito. Non andate via perché arrivo subito. Se no vi spezzo le ginocchia. Se andate via vi spezzo le ginocchia. Vi piglia tutti quanti, vi porto giù e va fetto, eh. Che cos'è? Dai, eh. Allora, salsiccetta, cipolla e pomodoro. Come hai detto, ragazzi, è molto, molto difficile gestire la situation. Veramente così tanto, tanto difficile, eh. Eh. Dopodiché. Pomodori. Dai, ye. Ole. È a posto. Figlia qui. Metti qui. De nuda. Mettila qui. Pomodoro. Mettilo qui. In forno. Questo qui dovrebbe essere il tavolo numero one. Ragazzi, le alzatine sono vuote. Le alzatine sono vuote. Le alzatine sono vuote. E purtroppo sì, ragazzi. Non riesco a gestire tutta quanta la situazione. Che ci dobbiamo fa? Purtroppo va così, dai. Tavolo numero tre. Eccolo qui. Pulisci qui. Ok. Ragazzi, allora facciamo così. Per riempire le alzatine possiamo fare soltanto carne. Dagliela. Scusi. Metti qui. In forno. Sì, perché purtroppo devi badare a due cose. Ed è molto molto difficile badare a due cose. E ragazzi, questi qua sopra qua si attaccheranno. E non è che io posso gestire tutti questi clienti. Cioè, è difficile gestirli tutti quanti insieme. E lo so, ragazzi. Se ne andranno molto molto infastiditi, però. Che vi devo dire. È complicato. È complicato. Metti qui. Piglia la farina. Ma ridagliela. Eccolo qui la tipa. Oddio. Questo posto ha un terribile odore. E te credo, signor. Qua ammazziamo, cuciniamo, famo di tutto. C'è nessuno qui? Eccolo. Guardalo. Quanto è figo. Salve, signora. Mi dispiace, ma sto per chiudere. Può passare domani o un altro giorno. Non ho intenzione di aspettare un minuto di più. Scusi? Ieri ho mandato qualcuno a ritirare il mio abito, ma non è mai più tornato. Ho deciso di fare un ordine. Solo perché la gente dice che se il miglior sarto della zona e ciò che ottengo è un vestito terribile, me ne farai un altro gratuitamente pure. O farò chiudere questo posto? Tazzarda, signore. Sennò te spezzo la noce del capocollo. Mi scuso per l'inconveniente. L'ordine era a suo nome? Sì, ovvio. Sono Yvonne Larouche, credo. È così che trattate i vostri migliori clienti? Oh, signora Larouche. È un onore averla qui. Le garantisco che i miei vestiti sono creati con la massima cura e precisione. Diciamo. Mi dia la possibilità di rimediare. Solo per lei ne farò uno nuovo completamente gratuito. Ma prima, per favore, posso prenderle le misure? Va bene, ma sbrigati. Signo, signori, questa qui farà una brutta fine. Guardalo che figurino. Vediamo, le piace il rosso? Scusa? Sì, dovresti proprio scusarti. Come osi venire qui con una richiesta del genere? Chi ti credi di essere? Che stai facendo? Aiuto, aiuto. Ti fa male orlare così. Abbiamo appena iniziato a divertirci. Aiutatemi, vi prego. Dov'è il tuo potere ora? La tua insolenza? Se mi uccidi, la tua vita sarà rovinata. Tutti verranno a cercarmi. Sarà meglio che mi lasci immediatamente. Ne ho abbastanza. Dagliela. Questa storia è una spina nel fianco. Anzi, no, io direi una spina nel cu. Sono tutti morti ora. Il dread dovrà cucinare questi tre bastardi. Poi dobbiamo solo prenderci la nostra ricompensa. Uccidere il signor G e lasciare questo posto. Se quello che Yvonne ha detto è vero, siamo in pericolo. Spero che la prossima lettera non ci metta troppo ad arrivare. Eccola. E siamo a tre. E ragazzi, non so ancora quanto ci sarà da andare avanti con sta roba, però... Non lo so, ragazzi, e non lo so. Comunque, vediamo un po'. Io vorrei andare ancora un altro pochino avanti, sperando che... La camera, ragazzi, non mi abbandoni perché purtroppo non ha più il caricabatterie fittizio e quindi c'è la batteria sua originale e ha soltanto una tacca. Perché non si sente più il tritacarne qua? Che è successo? Che sta succedendo? Perché non si sente più l'audio? Eh, infatti, ragazzi, non si sente più l'audio dei forni di qua. Non si sentono più le buci personaggi. Che cavolo è successo adesso? Apri. Piglia qua la roba. Che è successo? Ah, non saprei. Ok. Credo che si sarà sistemato. Sì, ok. Ok, ok, era giusto in quella fase... De... Partita. Ole. Vada, Parsifal, vada. Signora, venghi qui che mi serve un cadavere. Tanto comunque sia di cadaveri ne abbiamo, eh. Ora, non vorrei dire ma stiamo a posto. Allora, vediamo un attimo. Facciamoci un altro po' di cibo così. Vai, vai, inforna tutto. Pistecchina, patata e cipolla. Allora, inforna tutto. Prendi la salsiccia, mettila qui. As fast as I can. Ole. A posto. E... Allora, butta di sotto. Prendi questo. Portalo di sopra. Dai, una mezza ripulita. Prendi questo. Tavolo numero one. Dai, dai. Metti qui. Facciamo un po' di abiti perché sono completamente finiti. Tavolo numero due. Scusi, eh. Arrivo subito. Ok. A posto. Allora, aspettate ragazzi. Facciamo due bistecchine qui. Vai, buttalo di sotto. Attenzione alla capoccia, signor che mo' arriva... No, due bistecchine. Cavolo. Ora stavo anche sbagliando. Eh, lo so ragazzi. Gli ordini adesso devono aspettare un pochino. Perché... Non abbiamo più cibarie. Anzi, almeno di sotto non abbiamo più cibarie. Che poi qua ci mette sempre un'eternità a fa sta roba. Quindi, fate un po' conto voi. Metti qui. Facciamo un po' di abiti. Olè. Da a posto. Carne. Mettila qui. Dopodiché, bistecchina con patate. Anzi, bistecchina con purè di patate. A posto. Dai, metti qui. Metti qui. Aspetti, signore. Arrivo subito, eh. Due secondini che arrivo subito. Piglia qua. Metti qui. Metti qua. Dai, 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 dai. Questo qui era al quarto tavolo. Mettilo qui. A posto. Prendi anche la bistecchina con purè di patate. E portamelo anche al terzo tavolo. Ok. Le alzatine un'altra volta sono vuote. Ma che cavolo di casino. Cioè, certo che non riusciamo nemmeno a veramente a gestire tutto. E che due maroni. Vai, piglia qui. Il tortino di carne. Eh, lo so, ragazzi, lo so. Purtroppo le alzatine devono rimanere vuote, ragazzi, perché non ho più tempo di fare niente. E questo è vero. Eh, lo so, se ne andranno, però non fa niente, ragazzi, dai. Non fa niente, perché purtroppo non riesco quantomeno a gestire tutto. Eccomi, eccomi, arrivo, buon uomini. Lascia qui. No, scusi, ho sbagliato. Eh, lo so, ragazzi, purtroppo deve rimanere... Cioè, non faccio in tempo. Non faccio in tempo, perché purtroppo la giornata è anche finita, quindi... Fate, fate un po' voi, fate voi. Quindi, niente, niente. Non si può avere tutto dalla vita. Eh, sì. Eh, lo so, mi scusi, buon uomo, ma purtroppo mi deve scusare. Mi deve scusare. Un po' di ordini sono andati a farsi benedire, ma... Che ce dobbiamo fa? Eh, allora, eccala. Eh, sì. Allora. Sono estremamente soddisfatto del vostro lavoro. Avete ucciso tutti i bersagli da me richiesti. Sono sicuro che le mie piccole minacce vi abbiano motivato in qualche modo. Accendite i forni e imbandite la tavola per il mio banchetto. Mi aspetto che tutto sia perfetto e delizioso. Verrò lì questa notte con la vostra ricompensa. Finalmente, che cacchio. Madonna. Signora, mi facci un altro po' di cadaveri qui? Dai, dai. Che dobbiamo vedere come andrà a finire sta storia. Eh, l'espositore è vuoto. Ah, no. È vero, l'espositore è orca la puttanesca. Metti qua, metti qua. Eh, vai, vai. Sì, sì, sì. Eh, lo so che l'espositore è vuoto, ma che ci dobbiamo fare, raga? Purtroppo, come detto, non posso fare altrimenti. Vai, vai, mandalo su. Prendi il gatto. Eh, sì, prendi il tubo. Mettilo qui. Metti qui. Ok, dai. A posto così. E a posto, cos'ha? Ok. Allora, bist... Anzi, no, scusate. Salsiccetta qui con patate. Ripulisci. Metti questo nel forno. Tavolo numero due. A posto. Prendi quest'altro. Portalo di sopra. Carne tritata. Bistecchina e salsiccetta. Bistecchina. Salsiccia. Dai una mezza ripulita. Cotta di sotto. Salsiccia, pomodoro. E cipolla. Cipolla. Aspetta. Pomodori sono finiti. Ma porca di quella. Porca Eva. Ma porca di quella Eva. Maledizione. Maledizione. Prendi questo. No, tavolo numero quattro. Scusi, signor Parsifal. Mi vado a fare un po' di pomodori. Su. Ma po... Eh, infatti non si può fare. Per forza. Mannaggia la miseria. Eh, ragazzi, quelli là si attaccano. Ok, vedevo di. Vai. Porta qua. Aspetta. Eh, vabbè, ragazzi. Non faccio in tempo a fa un cacchio. Ma porca Eva. Fai di sopra. Pomodori. Cipolla. Eh, lo so, ragazzi. Non faccio in tempo. Non farò mai in tempo. Farina. Eh, ragazzi. Come detto, purtroppo c'è questo piccolo disguido. Questo piccolo disguido. Eh, purtroppo. Iniziano ad arrivare troppo in fretta tutti quanti i clienti. Eh, purtroppo non sai come gestirti la situazione. Vai. Tavolo numero due. Eh, quelli là, ragazzi, al tavolo numero uno, lo so, hanno aspettato fin troppo. Però, cavolo, devo dire, no? C'ho anche da fare altre cose che, purtroppo, devo farle, ragazzi. Devo farle. Perché, se no, altrimenti qua, veramente, non, non si riesce ad andare da nessunissima parte. Eh, quelli là, mo' se ne andranno, lo so. Ma, che ce potremo fa? Eh, ragazzi, sono gli ultimi clienti, sì. Come detto, non, non riesco a fare tutto. Purtroppo non riesco a fare tutto. Eh, lo so. Si sono incazzati neri, però... Eh, che ve devo dire, signori? Purtroppo non... Non ci sono riuscito. Eh, lo so. Purtroppo è così. Ecco là. Eccoci, eccoci. Salve, cara. Hildred. Oh, Parsifal. Mi hai spaventata terribilmente, tesoro. E che cos'è? Te credo, guardalo lì. Non lo fai mai niente a mesi. Pensavo fosse... Vabbè, non ho finito di leggere. I clienti che arrivano qui non... Sono vivi. Sì. Non hai tutti i torti. Che ci fai qui? Siamo pronti. Oh, finalmente. Yvonne ti ha dato problemi. Era arrogante. Chi non lo è in città? Almeno ti sei divertito. E... Potremmo aver esagerato questa volta. Yvonne mi ha detto che qualcuno la verrà a cercare. Siamo in pericolo ora. Non è un problema. Ce ne possiamo andare, come l'ultima volta. Spariremo e ricominceremo da capo. Allora vuol dire che ci sarà un proseguio. Niente può fermarci finché siamo insieme. Sì, cara. Niente e nessuno può fermarci. Ora dobbiamo preparare tutto il banchetto. Tutto per il banchetto. E se non venisse? Verrà nessuno certo. Ma non so come finirà questa storia. Prenderemo la ricompensa e lo ammazzeremo. Ma perché? Perché il signor G vuole venire qui. Non è stupido. Sicuramente sa che proveremo ad ucciderlo. Ma non possiamo ucciderlo se non ci dà la nostra ricompensa. Chissà cosa sarà. Pensi che sarà in compagnia di altri? Non lo so. Non riesco ad immaginare uno psicopatico che ama la compagnia di altra gente. Ma io non sono uno psicopatico. Quindi non ti saprei dire. E cosa facciamo se è armato? Un'arma. Non ho paura. Comunque vada lo uccideremo. Smetti di pensare ai problemi per una volta. Sono certo che tutto andrà bene. Ho ragione. Mmm. Ne usciremo insieme. Come sempre. Ora andiamo. Dobbiamo portare i cadaveri qui sotto. Il ragazzo lì che poi dopo alla fine sarà di nuovo per strada senza un lavoro però. Lasciate fare. Lasciate fare. Eccoli. Guarda qua che bel banchetto che abbiamo preparato. Ci meritiamo una bella vacanza dopo tutto questo. Mmm. Dove ti piacerebbe andare? Mmm. Lontano dalla città. Un posto dove rilassarci e goderci la vita. Abbiamo guadagnato molti soldi qui. Ma dove? Che l'ultima volta tua moglie ha dato soldi al ragazzino semmo rimasti all'asciutto. Potremmo andare ovunque. Al mare? Daremo in pasto agli scuoli i nostri vicini. Aha. Ora vieni qui. Dammi una mano con Elliot. Come portiamo Gilbert in cucina? Pezzo per pezzo. Pensavo avesse un'idea migliore. Beh certo, facciamo un buco al pavimento e lo facciamo passare di sotto, no? Idred. Questo è il posto migliore per uccidere il signor Jay. Sì. Sorridi amore mio. Domani a quest'ora non lavoreremo più qui. Saremo in un posto migliore. Saremo in un posto migliore. Saremo in un progetto migliore. Sicuramente ci sarebbe fatto che ci sarebbero indagati, ma anche i suoi scopi. Abbiamo capito che non si era preparato a prendere nulla per una risposta. Non siamo più capiti a giocare i suoi giochi. La cosa che ora dovrebbe prendere sono le mie scopi. Guardate! Sono morti o è andato storto qualcosa? Oddio ragazzi, non ci credo. Abbiamo, credo, finito il titolo. Non si sa che fine abbiano fatto il signor Parsifal e la signorina Hildred e nemmeno quell'altro psicopatico che ha mangiato e bevuto come un maiale. Allora, ragazzi, che cosa dirvi? Io sono rimasto molto stupefatto dal titolo. Certamente le conclusioni credo che forse le farò con la mia amica Deborah perché, come detto, lo stiamo giocando insieme e credo che forse ne trarremo insieme le conclusioni, come detto. Però a mio parere, certo, il titolo è stato un po' troppo ripetitivo, un po' troppo monotono ed in effetti si facevano sempre le stesse cose. Però, comunque sia, i due signori sono ancora qui. Ok, grazie per aver giocato a Ravenous Devils. Continua dall'ultimo salvataggio per sbloccare ogni cosa. Ci sono ancora clienti da servire ed uccidere. Ok, quindi allora il gioco, diciamo che la storia principale è finita, però se si vuole continuare a giocare, quindi ad ammazzare persone, a sbloccare ancora altri vestiti, eccetera, eccetera, lo si può comunque sia continuare. Però, come detto, la storia principale è completamente finita ed in effetti è stato un titolo veramente molto molto bello. Mi ha tenuto proprio con il fiato sospeso perché volevo vedere, per l'appunto, la fine del titolo e devo dire che ne sono rimasto molto molto contento, ragazzi. Quindi un applausone va agli sviluppatori perché hanno sviluppato un titolo horror barra culinario, insomma, dove si prepara, come detto e come avete anche ben visto, il cibo con carne umana e veramente un applauso agli sviluppatori di questo titolo. Come detto, ragazzi, le conclusioni vere e proprie, magari, come detto, ne parlerò con la mia amica Deborah e poi dopo magari ne farò un video a parte riguardante questo determinato titolo. Però, come detto, io sono rimasto veramente molto molto soddisfatto. Tanto comunque sia, come detto, ragazzi, su Steam lo trovate veramente a pochissimi euro, siano un 3,60 euro su questo determinato titolo che, come detto, certo, un po' troppo ripetitivo, un po' troppo monotono, insomma, sempre la stessa cosa. Però, comunque sia, ci è stato un finale veramente molto molto bello, molto carino. E niente, ragazzi, io concludo qui questa serie di Revenues Davers. Mi è piaciuta veramente così tanto. Non porterò più altri video perché, comunque sia, la storia principale l'abbiamo vista e, come detto, possiamo continuare comunque sia a giocare liberamente per servire, come detto, clienti e anche ammazzare altri soggettoni per la nostra cucina. Voi, ragazzi, come sempre, vi invito a lasciare like, a commentare, ad iscrivervi, attivare la campanellina, condividere il video e noi ci becchiamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!